Siamo tutti antifascisti! 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 Adesso rimane chiesto una buona grandissima ritorna Il laboratorio occupato Crash anche in questi momenti vuole ricordare la sua completa complicità e solidarietà a tutti gli antifascisti e antifascisti d'Atene E soprattutto in questo momento 26 compagni arrestati durante le ronde antifasciste che si sono tenute in città in questi giorni I compagni sono andati a proteggere i migranti, a cacciare i nazisti di arma dorata Organizzazione che da un anno a questa parte cerca di alzare la testa anche aiutando la prima di crisi Certe nerde fasciste non ci possono stare in città Siamo al fianco dei nostri compagni incarcerati E lo diciamo forte e chiaro con questo striscione Siamo anche al fianco degli studi di testa del collettivo autonomo slentesco Che ieri mattina durante il corteo hanno strappato la bandiera dal consolato greco Per esprimere il loro completo disprezzo a un governo che chiude gli occhi davanti a certe mille azioni E contemporaneamente affava il suo popolo Laboratore occupato a trash, sempre al fiat delle lotte contro la crisi E contro tutti i fascismi, contro tutti i razzismi e contro tutti i sessismi Siamo tutti antifascisti!